Che cos'è il Natale? Non so rispondere a questa domanda. Per molti il Natale significa stare insieme in famiglia, ma per quanto riguardi senza detto a loro, loro sono soli tutto l'anno, Natale compreso. Si dice che il Natale rende tutti più buoni, si insegna ai bambini che bisogna essere bravi per i regali. A mio figlio invece insegnerò ad essere buono verso il prossimo e basta perché è così chi deve essere. Vorrei che il Natale fosse un mondo in cui sentirsi assicuro non fosse visto come un privilegio. Vorrei che fosse un mondo in cui l'omofobia e l'indifferenza, l'odio non fossero alle ordine del giorno. Diamo per scontato il fatto che a Natale si debbano fare i regali per forza, ma dopo aver perso la parte più importante di me mi sono resa conto soltanto dopo di aver sottovalutato per tutto il tempo il dono più grande che mi sia mai stato fatto. La vita. Ci arrabbiamo se non riceviamo il regalo che abbiamo atteso per tutto l'anno, mentre da qualche parte del mondo, in moltissime parti del mondo c'è chi lotta per vivere. Io non lo so che cos'è il Natale, però questo è quello che vorrei che fosse. Buone feste. Grazie.